Archiviata la visita della commissione esaminatrice, le tavolate e gli eventi, Lecce riprende la sua vita quotidiana, rituffandosi nei problemi di sempre, con le strade del centro storico, nuovamente aggredite dalle auto in transito e i commercianti a denunciare l'ennesimo atto vandalico subito, come in questo caso una porzione di quadro che abbelliva il muro esterno di un ristorante, staccata e portata via. Eppure, qualcosa forse la giornata dell'Eutopia 2019 avrebbe dovuto insegnare, come ad esempio la bellezza di ritrovare finalmente libero uno dei contenitori culturali più visitati della città, Palazzo dei Celestini, finora aggredito da decine di auto lasciate in sosta nell'atrio come nel più affollato dei parcheggi o come uno dei quartieri periferici dell'urba e lungo via Leuca, finalmente vivibile e con spazi aggregativi all'insegna della riqualificazione urbana. Il seme della cultura è un seme antico, difficile da far germogliare in pochi mesi, né basta la storia, tantomeno entusiasmo e ottimismo per un traguardo che se raggiunto dovrebbe voler dire soprattutto consapevolezza di dover lavorare ancora tanto, magari solo per combattere la deprecabile abitudine di trasformare ogni posto in una discarica a cielo aperto, incentivando i servizi di una raccolta differenziata ferma ora ad un incommentabile 17%, dimenticando forse che il rispetto per il patrimonio ambientale è anch'esso, come per quello storico e artistico, sinonimo di civiltà proprio del concetto di cultura.